Apriamo le scritture nel Vangelo di San Giovanni. Inizieremo qui, poi non so dove andremo. Leggeremo San Giovanni, capitolo 10. Leggeremo dal versetto 7. Versetto 7. Alleluia. Perciò Gesù disse loro di nuovo, in verità, in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra per mezzo di me, sarà salvato. Entrerà, uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene, se non per rubare, uccidere e distruggere. Ma io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano a stento. E l'abbiano, diciamolo insieme, in abbondanza. Gesù dice io sono il buon pastore. Il buon pastore depone la sua vita per le pecore. Ma il mercenario, che non è pastore e a cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge. E il lupo rapisce e disperde le pecore. Ora il mercenario fugge perché è mercenario e non si cura delle pecore. Tenete questo versetto in mente. Io sono il buon pastore e conosco le mie pecore e le mie conoscono me. Come il Padre conosce me e io conosco il Padre e depongo la mia vita per le pecore. Io ho anche delle altre pecore che non sono di questo vile. Anche quelle io devo raccogliere ed esse ascolteranno la mia voce e vi sarà un solo gregge e un solo pastore. Per questo mi ama il Padre. Perché io depongo la mia vita per prenderla di nuovo. Nessuno me la toglie. Ma la depongo da me stesso. Io ho il potere di deporla e il potere di prenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. Allora sorse di nuovo una divisione tra i giudei per queste parole. E molti di loro dicevano Egli ha un demone ed è fuori di sé perché lo ascoltate. Altri dicevano Queste non sono parole di un indemoniato. Può un demone aprire gli occhi ai ciechi? Fin qui la parola. L'obiettivo di Dio Per avanzare il suo proposito È quello di raccogliere Non disperdere L'obiettivo di Dio è sempre di radunare Non separare Come nella città di Messina e in tutte le altre città del mondo Ci sono varie comunità Sono chiese diverse Con diverse espressioni e quant'altro Quando anche dovremmo essere tutti radunati sotto un solo nome Siamo radunati sotto nomi diversi Anche se Cerchiamo di mantenere l'idea che Gesù è il denominatore comune È la persona che ci accomuna Però mi sono chiesto tante volte Studiando la storia della Chiesa Come mai Quando Dio desidera raccogliere Si disperde Se non raccogliamo con Gesù Disperdiamo Il canto che abbiamo cantato Vale più di quel che ho Più dell'aria che respiro L'ho aggiunta stamattina Alla lista Perché credo che si è persa La priorità Dell'avanzamento del regno di Dio Gesù dice ai suoi Io ho anche delle altre pecore Che non sono di questo vile Anche quelle io devo raccogliere Ed esse ascolteranno la mia voce Vi sarà un solo gregge E un solo pastore Gli altri sono mercenari Gesù li ha chiamati ladri e briganti Ovviamente Non vogliamo Fare politica Con questi principi Facendo avvalere I nostri pensieri Su quello che magari vediamo Con i nostri occhi essere la realtà Chiese divide Dove vai? Non si dice vado nella Chiesa Del Signore Gesù Cristo Si dice vado da Filippo Cannavò O vado da Qualche altro pastore E diamo nomi Nomi che sono stati già Prefissati e scogitati Da una politica religiosa Che non ha fatto altro Che frammentare Il proposito di Dio Parliamo di evangelizzazione Immagina se tutte le Chiese Evangelizzassero tutto Allo stesso momento Sono un pensiero Immagina se tutti Pregassero insieme Per l'avanzamento Del Regno di Dio Quando il pensiero Di un'opera diventa Quella di sopraffarne Un'altra Abbiamo perso di mira Il nostro compito La nostra missione Fratelli non voglio Che accada E non sia nemmeno Una minima parte Del nostro modo Di pensare Perché l'opera Di Messina Appartiene a Gesù Cristo E non a un uomo Né Cannavò Né Feminò Né altri nomi Appartiene a Gesù Cristo Ma il Signore Gesù In maniera Molto esplicita Qui dice Io ho anche Delle altre pecore Che non sono Di questo vile Lo dice ai suoi In preparazione Per la sua morte Come se Io non posso Raggiungere Quelli dell'altro vile Che sono Da un'altra parte Se non prima C'è una morte E una risurrezione Gesù Continua subito Dopo E vi sarà Un solo greggio Un solo pastore Per questo Il Padre Mi ama il Padre Perché io Depongo La mia vita Per prenderla di nuovo Cioè Io depongo La mia vita Do la mia vita Per portare avanti Il proposito di Dio Ma io so Che in questo processo Ritroverò La mia vita Gesù stesso Ha detto Chi perderà La sua vita Per il mio nome La ritroverà Quanti sono pronti A perdere La propria vita Perché pensano Che il valore Del progetto Di Dio Sia più Abbia più valore Di quello Che è mio Di quello Che penso io Di quello Che posso portare Avanti io Io ringrazio Dio Per tutti i ministeri Che sono in esistenza Ovviamente Ci sono alcuni Che sono chiamati Da Lui E altri Che non lo sono Ma Dio Saprà decidere Alla fine Poi È stato Gesù stesso A dire Chi di un modo E chi di un altro Basta che il Vangelo È praticato E per quanto Questo sia giusto L'ovile È anche importante Conoscere La voce Di Cristo È importante Le mie Becore Riconoscono La mia voce Avete letto Quel passo L'abbiamo letto Più avanti Che dice Io sono la porta Se uno entra Per mezzo di me Sarà salvato Entrerà Uscirà E troverà Pasquale Come mai Una volta che si entra Si dovrebbe rimanere dentro Ma dobbiamo capire il concetto qui Il concetto è Che c'è un ovile Un ovile Grande Dove Tutti i pastori Portavano tutte le loro greggi Entravano tutte in questo recinto Ed erano tutti insieme Ma quando il pastore Di un certo greggio Diceva E uscite forse Venite fuori Andiamo a pascolare Riconoscevano la sua voce E tutti i suoi Quelli che gli erano affidati Uscivano da quello ovile E seguivano il buon pastore La voce di un altro pastore Non la riconoscono Poteva venire un altro pastore E dire Forza usciamo tutti Solo quelli che riconoscono La voce di quel buon pastore Di quel pastore Avrebbero risposto E saranno usciti Cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo che Quando il Signore parla Il Signore non necessariamente Sta parlando a tutti Parla alla sua chiesa in generale E tutti dovrebbero rispondere Alla sua chiamata Tutti dovrebbero rispondere A quell'appello Di uscire dall'ovile Ma non tutti escono Da quell'ovile Perché forse Non si riesce a decifrare O a riconoscere Il momento profetico In cui il pastore sta parlando Gesù stesso ha detto Io ho tante cose da dirvi Ma ancora non siete in grado A riceverli Forse il Signore Ha tante cose da dirci Ma non siamo nemmeno pronti A riceverli Questa è Questa è un'introduzione Al messaggio Forse non siamo pronti A ricevere quello che Dio Ha per noi Perché non siamo aperti Al suo volere O forse siamo troppo presi Da quello che dobbiamo fare noi Quello che sentiamo di fare noi Quello che ci siamo previstati Di fare noi Al punto dove Quando Dio dice una certa cosa C'è un orecchio Che riesce subito a rispondere E un altro orecchio Che non capisce un'è Nella storia si è manifestata sempre Questa Questo che vi sto per dire Che in ogni situazione In ogni O alla fine Di un movimento di Dio Si è manifestato sempre L'isolamento Oppure L'andare avanti Di un residuo Cioè Un gruppo viene estrapolato Dall'intero Per portare avanti Il proposito di Dio E Dio fa questa cosa Pur volendo Che tutti rimanessero insieme E' come se andasse Contro la sua natura Dio va contro la sua natura Per quale motivo? Perché conosce l'uomo E sa quello che c'è nell'uomo Il divorzio non era mai da Dio E Gesù stesso ha detto Non era così dal principio Dice però Per la durezza del vostro cuore E' stato permesso Il divorzio Ma non era così dal principio Cioè Dio lavora con l'uomo Nella condizione In cui si trova E quando ci chiama A fare qualcosa Ci ispira A fare qualcosa Ci sentiamo ispirati A seguire Ma ci sono anche quelli Che non si sentono ispirati A seguire Cioè Quelli che hanno Un orecchio attento Un cuore aperto E sono aperti Al volere di Dio E dicono Signore Tu vali più Di quello che penso io E se non si arriva A questa apertura Alle cose di Dio Si comincia a vivere Una vita disordinata La vita disordinata Proviene Da una disubbidienza Dopodisubbidienza Dove confonde La propria coscienza Dell'uomo E non riesce più A decifrare Quella cosa Che ci può portare pace E con il tempo Con l'andare del tempo Ci ritroviamo In confusione E poi chiamiamo Pastore Abbiamo bisogno Di Delucidazioni Abbiamo bisogno Di chiarimenti Abbiamo Non riusciamo A vedere le cose Per come sono Forse la confusione Proviene dal fatto Che Lungo il percorso Oppure quando Il Signore diceva Forza uscita Andiamo a mangiare Tu non hai risposto Forse perché Ti sei raffreddato Nei confronti Del tuo pastore Non io Il buon pastore Ti sei raffreddato Nei suoi confronti E non riesci più A decifrare La sua voce In mezzo alle tante voci Non la riconosci più Noi siamo Ascoltatemi bene Noi siamo di quelli Che vogliono E io lo dichiaro Nel nome di Gesù Noi siamo di quelli Che vogliono Seguire Il nostro Buon pastore Siamo d'accordo Su questo La voce di un altro Non la vogliamo seguire La voce di un altro Non ci interessa E spesse volte Veniamo chiamati Anche in causa Per cose Che non riguardano L'avanzamento Del regno Ma che sono Distrazioni Per la nostra vita Che poi Noi stessi Causiamo Siamo causa Permettetemi Siamo causa Di queste distrazioni Perché abbiamo Un piede dentro E un piede fuori E Gesù stesso Dice Aprile le scritture In Matteo Capitolo 20 Ma Gesù stesso Dice Che lui ha un proposito È quello È quello di portare Il regno Di manifestare Il regno Infatti In Atti Capitolo 1 Versetto 4, 5, 6, 7 Quei versetti Là Una serie di versetti Dice Dice È adesso Che tu Manifesterai Il regno E Gesù Risponde Dice Non è Non sta a me Manifestare il regno Per quanto Quando il padre Decide di farlo Ma tutti vogliamo Che il regno Si manifesti Giusto Aspetta che vado A praticare Agli altri Quanti noi Desideriamo Che il regno Si manifesti Perché quando Noi pensiamo Regno Pensiamo subito Miracoli Potenti Operazioni Quello è Un risultato Di un'ubbidienza Perché Che i miracoli Potenti operazioni E guarigioni Si manifestano Quando il popolo Di Dio Cammina Di pari passo Con Cristo Perché è lui Insieme ai suoi A confermare La parola di Dio Non sapete voi Che l'obiettivo Di Dio Una parentesi Sapete quanti Quanti erano Lì Quando Gesù Ascese al cielo E salito al cielo Quanti erano presenti 500 Erano presenti E disse a tutti Questi 500 Andate nell'alto solaio Quanti sono arrivati Nell'alto solaio No sicuramente Sono arrivati Tutti e 500 Però lentamente Nello spazio Di 10 giorni 380 Se ne sono andati Alleluia Ma c'era un motivo Perché 120 Dovevano essere Di pari sentimento Dovevano vedere Vedere le cose Nella stessa maniera Avere lo stesso desiderio Essere uniti Nello spirito Per il volere di Dio Signore aiutami qua Dove vi ho detto Scusate Matteo Capitolo 20 Speriamo che chiedi giusto Sì versetto 17 Poi mentre Gesù saliva A Gerusalemme Strada facendo Prese in disparte I dodici discepoli Disse loro Ecco noi saliamo A Gerusalemme E il figlio dell'uomo Sarà dato in mano Dei capi dei sacerdoti E degli iscrivi Ed essi Lo condanneranno A morte Lo consegneranno Poi nelle mani Dei gentili Perché sia schernito Flagellato E crocifisso Ma il terzo giorno Egli risusciterà Allora la madre Dei figli Sittava avanti Non star a rete Come si suol dire Che cosa dice Allora la madre Dei figli Di Zebedeo Si accostò a lui Con i suoi figli Si prostrò E gli chiese Qualche cosa Ed egli le disse Che vuoi E dice E la rispose Ordina Ordina Voleva Voleva risolvere Una cosa Per i suoi figli Quanti ci tengono Ai propri figli Chissà quanti Sono andati Da insegnante Per dire Oh L'accertare Meglio a mio figlio E che cosa Dice il maestro Il professore Tuo figlio Va a studiare Chi lo sai Sicuramente Ed è la rispose Ordina Che questi Miei due figli Siedano Diciamo insieme L'uno Alla tua Destra E l'altro Alla sinistra Dove Nel tuo regno Quando viene il tuo regno Io voglio che uno Sia seduto Alla destra E l'altro Alla sinistra Cioè io mi voglio Sistemare i miei figli Cioè voglio usare Un posto di travaglio Quanti genitori Mi ricordo Nella mia generazione Dove i genitori Andavano Io conosco questo Conosco pure oggi Oggi si fa la stessa cosa Io conosco questo Gli può trovare un posto A mio figlio Un altro E andiamo sempre Alla cerca di qualcuno Che ci possa Agevolare Ma questo non è il discorso Tanto per dire Ordine che questi Miei due figli Siedano L'uno Alla tua destra E l'altro Alla sinistra Nel tuo regno E Gesù risponde Rispondendo Dice Voi Leggiamoli insieme Voi non sapete Ciò che domandate Potete voi Bere il calice Che io sto per bere Ed essere battezzati Del battesimo Di cui io sarò Battezzato Essi gli dissero Sì Lo possiamo Allora Egli disse loro Voi certo Berrete il mio calice Sarete battezzati Del battesimo Di cui io sarò Battezzato Ma sedere Alla mia destra O alla mia sinistra Non sta a me Concederlo Ma è riservato Scusate A coloro Per i quali E' stato preparato Diciamo insieme Preparato Preparato Dal padre Mio Allora Ciò All'udire ciò Gli altri dieci Si indignarono Contro i due fratelli E Gesù Chiamato E a sé Dice Voi sapete Che i sovrani Delle nazioni Le signoreggie Che i grandi eserci Il potere Sud di esse Ma tra di voi Non sarà così Anzi Chiunque Tra di voi Vorrà Diventare Grande Sia Quanti noi Vogliamo essere Servi di tutti Quanti noi Vogliamo essere Servi di tutti Quanti noi Vogliamo essere Servi di tutti Quanti di noi Vogliamo essere Servi di tutti Quanti di noi Noi vogliamo essere servi di tutti. So che ascoltate la voce del buon pastore, ma ascoltate anche la mia, non è tanto. Facevo questa meditazione. Signore noi vogliamo sederci, ovviamente la mamma di questi chiamati figli del tuono che erano infatti Giacomo e Giovanni. Voglio che uno si sieda alla tua destra e l'altro si sieda alla tua sinistra. E facevo questa meditazione, pensavo sempre a destra e a sinistra. A destra e a sinistra. Anche nella politica c'è destra e sinistra. Nella politica si dice sei di destra, sei di sinistra. E quando Gesù chiede o risponde, tu non hai idea quello che stai chiedendo. Tu non hai idea quello che stai chiedendo perché tu non capisci il concetto di destra e sinistra. Oggi intendiamo destra e sinistra, ma è anche importante capire che tra i credenti c'è anche destra e sinistra. Ti dico solo questo, che alla sinistra di Dio nessuno è seduto. Ma Gesù è seduto solo alla sinistra, non ha nessuno. Sto cominciando a capire qualcosa qua? Perché è importante capire chi è di destra. Ascoltatemi, questa non è una predicazione sulla politica, è riguardo alla politica. Ok? Fate attenzione. Perché il discorso che ha fatto Gesù, in Matteo capitolo 25, potete aprire se volete, Matteo capitolo 25, dove parla, dove parla di delle pecore e delle capre. Alla destra non ce ne sono capre. Se tu vuoi essere da sinistra, sei una capra. Ma ascolta, sia a destra che a sinistra, sentono la stessa cosa. Quelli di destra, dice, voi mettetevi alla mia destra, perché ero in prigione, mi avete visitato, ero malato, mi avete fatto visita, ero nudo, mi avete vestito, e tutte queste cose, cioè che vi siete qui, ero in prigione, tutte queste cose. E loro, questi della destra, hanno visto il bisogno nell'umanità, e si sono adoperati per accudire al bisogno dell'umanità. Ascoltatevi, la metto sotto un altro contesto. Perché il contesto qui riguarda la priorità che uno se ne fa del volere di Dio. E il volere di Dio qual è? quello di essere altruisti, non egoisti. E batterò su questa cosa, perché la Chiesa sta diventando egoista, perché la sinistra, permettetemi, sta influenzando la mentalità, in particolare, dei nostri giovani. addirittura abbiamo anche ragazzi che non sono insegnati dai propri padri ad essere uomini. Se salutano con la mano così. Dobbiamo insegnare ai nostri figli ad essere uomini, crescere come uomini, agire come uomini. La sinistra non ci piace questa idea. La sinistra che cosa fa? La sinistra vuole convincerti che tu puoi essere mascolo o femmina quando tu, a modo come tu conviene, su Giamatina, si qui tu puoi essere. Quelli della destra non pensano così? No, no, io ho sentito la voce del buon pastore che mi ha detto che c'era qualcuno che era nudo, io sono andato e l'ho vestito. Ho sentito che c'era qualcuno in prigione, sono andato a visitarlo. Quello è la sinistra? Ci pare che sa... Perché loro stanno ascoltando la stessa voce di quelli di destra. Odono la stessa cosa. e per questo dicono, ma quando ti abbiamo visto noi nudo? E quando ti abbiamo sentito che eri malato? E quando abbiamo sentito questo o quell'altro? E il motivo per cui non l'abbiamo fatto è perché non riuscivamo a udire la voce di un buon pastore. quelli di destra erano pecore e sentivano e ascoltavano la voce del buon pastore ma non quelli di sinistra. Ascoltatemi, ripeto, non sto trattando politica qui, ma sto facendo una... sto puntualizzando qualcosa di importante che la Chiesa non si può lasciare trascinare da quelli o della mentalità dei liberi progressivi del nostro giorno. Si possono mettere loro quelli di sinistra si possono mettere con quelli di destra e dire noi siamo la luce del mondo a modo soi. Perché quelli di sinistra non canteranno mai vali più di quelli che ho più dell'aria che respiro non la canteranno questa. Quelli di destra invece si sentono pecore. Dov'è la voce? Io ho bisogno della voce. Dov'è la voce del buon pastore? Chi si è alzato stamattina? Signore, io ho bisogno che tu mi parli. Ho bisogno che io ascolti la tua voce. Io ho bisogno che tu mi dia una parola. Che tu mi riveli qualcosa. Che tu ti manifesti nella mia vita. Io ho bisogno che tu mi tocchi che tu tocchi il mio cuore la mia mente il tutto del mio essere. Mi devi cambiare mi devi trasformare. Ho bisogno di questo. Quelli di destra la pensano così. Chi di sinistra dice qua e perché? E per quello motivo? Tutto continua come è continuato prima. La stessa maniera. Gesù si è trovato proprio in mezzo quando era sulla croce era proprio in mezzo uno sulla destra l'altro sulla sinistra. Quello penso che sia stato di destra anche se forse non è scritto ma sono sicuro che era quello di destra che ci disse padre Gesù ricorda di me quando tu entrerai nel tuo regno. La orla dice completamente egoista fammi scendere da questa croce se tu sei il figlio di Dio facci scendere da questa croce e l'altro diceva ricordati di me quando tu entrerai dove? Nel tuo regno. Quando parliamo del regno stiamo parlando del governo di Dio e anche lì stiamo parlando di destra e sinistra per entrare ma solo quelli di destra entrano. perché alla sinistra di Dio padre non c'è nessuno. Alleluia. Vai a dire a Gesù io sono di sinistra e ti dirà se non ti converti non sta dicendo che devi essere conservatore mi capite ma sta dicendo deve essere pecora non puoi essere capra. Non puoi agire come una capra e pensare di essere una pecora. Il Signore dice sto andando verso la conclusione dice voi certo berrete il mio calice e sarete battezzati del battesimo di cui io sarò battezzato ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo ma è preparato diciamo insieme preparato. Alleluia. Il Signore ci vuole alla sua destra non alla sua sinistra però sappi pure e ascoltate bene che il grano e la zizzania cresceranno insieme zizzania di sinistra e grano di destra pecore e capre cresciuti insieme ma solo le pecore saranno alla destra di Dio in Cristo Gesù meravigliosa parola di Dio e credo veramente fratelli credo veramente che la mentalità la filosofia di questo mondo vuole infiltrare sta facendo di tutto per soggiocare la Chiesa per entrare nella Chiesa e sottomettere in particolare i nostri giovani con un modo diverso di pensare e i nostri giovani io faccio appello alla vostra coscienza e dico non ditevi chi siamo vecchi sapete perché quando io ero giovane ci dicevi ai miei genitori ah ma voi siete vecchi quanti voi avete detto la stessa cosa dei vostri genitori e poi avete scoperto quando eravate diventaste genitori voi avete scoperto che era una cosa diversa non era come si diceva prima sai ma quando siamo giovani pensiamo di sapere tutto avere tutte le risposte e non ascoltiamo le esperienze le difficoltà dei nostri genitori per arrivare dove sono il momento in cui noi rifiudiamo questo cominciamo ad aprirci alla mentalità di capra fratelli dice la persona accanto io ringrazio Dio che sogna una pecora alziamoci in piedi alleluia il signore stesso ha detto infatti i discepoli dice chi ha seminato questa zizzania raccogliamola ma Gesù ha detto no no alla fine saranno gli angeli di Dio a raccogliere la zizzania per essere gettata nel fuoco ascoltatemi sto per finire due minuti ultimamente mi sono mi sono ritrovato a parlare con qualcuno che mi ha chiesto scusa riguardo a qualcosa che aveva detto e fatto negli anni passati chiedere scusa e chiedere perdono sono due cose diverse chi chiede scusa è quello che si vuole scusare per quello che ha fatto ho detto cioè vuole vuole dire ma tu ma capire perché io sogno in questa maniera quella è una scusa ma chi chiede perdono e dire signore contro di te ho peccato e solo contro di te è contro il mio fratello perdonami chiedo perdono a Dio e chiedo perdono al fratello chiedere perdono è la chiave quelli di sinistra chiedono scusa quelli di destra chiedono perdono la settimana scorsa abbiamo parlato brevemente abbiamo parlato di chi? della cena e di quelli che erano invitati alla cena chi erano invitati alla cena? qualcuno disse ti chiedo scusa ho appena comprato un potere ti chiedo scusa ma non posso venire e un altro disse ho comprato cinque paia di buoi e devo andare a provarli ti chiedo scusa scusami un altro dice mi sono sposato scuse ma nessuno di questi ha chiesto perdono nessuno facendo o chiedendo scusa è come dire io concludo che quello che faccio è importante o vale più di quello che è il tuo invito e c'è qualcosa nella tua vita che vale più dell'invito che Cristo ti ha dato? c'è qualcosa nella tua vita che vale di più di quello che è un buon interesse da parte di Dio Padre per la tua vita per darti un futuro e una speranza che dici Dio vale più di quello? cosa vale di più? queste sono scuse una persona che mi cerca scusa e l'ho imparato questo ultimamente una persona che mi cerca scusa non intende chiedere perdono vuole solo essere scusato in quello che ha fatto ma il Signore ci ha insegnato non a chiedergli scusa e vi dico inoltre che alla fine di quella di quella parabola della cena dice nessuno di quelli che ha chiesto scusa o che si è scusato era degno di partecipare alla cena nessuno era degno fratelli quando noi sbagliamo con qualcuno non dire scuse diciamo veramente dal nostro cuore perdonami ho avuto rancore nei tuoi riguardi perché Dio ordina la benedizione dove c'è il vero ravvedimento dove c'è non la scusa ma dove c'è il vero pentimento dove si dice Signore perdonami ho sbagliato quando il figlio prodigo è tornato a casa per quanto il padre volesse proprio raccogliere quant'altro e fargli del bene ma la chiave è stata il fatto che il figlio rientra in se stesso riconosce di aver sbagliato e dice ho peccato contro te e contro il cielo accettami come uno dei tuoi servi e fa che sia il Signore a promuoverti e portarti avanti dice ricordati che tu sei mio figlio le pecore vivono così le capre cercano scuse vogliono essere scusati in quello che fanno chiudiamo gli occhi alziamo le mani Signore noi siamo i tuoi figli e ci consideriamo pecore non capre noi rifiutiamo stare alla tua sinistra ma vogliamo stare alla tua destra perché tu onori quelli che sono alla tua destra e noi ti ringraziamo padre per il bene che tu ci hai concesso nel chiamarci figli e come abbiamo cantato tu sei un buon padre e veramente tu lo sei noi possiamo venire a te e dire sono io tu mi conosci mi sai sai quello che sono mi conosci esattamente con le mie forze le mie debolezze tu mi conosci a pieno ma vengo così come sono perché da oggi in poi io scelgo di essere altruista e non più egoista non penso più a me stesso perché come Gesù che ha deposto la sua vita per le pecore vogliamo deporre la nostra vita per l'avanzamento del tuo re ti diamo ogni lode e gloria la riconoscenza nostro dio nostro padre per il tuo grande amore per noi grazie di tutto l'eterno vi benedica e vi custodisca che gli faccia risplendere il suo volto su di voi e vi dia pace ogni momento della vostra vita che egli riempia la vostra casa di salute di pace di tranquillità e serenità e che la grazia di Dio abbondi in ogni aspetto della vostra vita nel nome di Gesù Cristo e il popolo di Dio dice amene andate benedetto